Doni! Goal! Sii! Vai! Quanto sono bravi Zappacosti e Paselli insieme Adesso lo rivediamo E poi E l'ottima Ma dice che faccio pure tu Il ritorno è pazzesco A stretto contatto con Benotti Hai inquadrato Bello Muori 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 Siii! Gozzano Muori anche se meritava di più Mantukic veramente assist di Mantukic bravo Mantukic assist di Mantukic di Pazelli no ma è mezzo a rinforzare Higuain Higuain Gazzaro ma fanculo c'è il mio ma non è vado 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 madonna questo è il terzo è il terzo no eccolo qui eccolo qui